questo da dotti udì raccontare che l'anticristo affronta il profeta elia s'arma il pravo e la pugna comincia i campion son forti forte alla cagione elia contende per l'eterna vita vuole retti il regno assicurare aiuto gli concede chi nel cielo impera appressa l'anticristo il crudo nemico l'appressa satana che avvissarlo deve però ei nell'aringo ferito cade e qui vi convien che vinto sia pur crede il soglion servi di dio che elia nella lotta l'eso rimanga tosto che stilli il sangue d'elia ardo i monti il mar si consuma arbor non resta le acque asciugano e tutto il cer per incendio di legua cade la luna bruciano i lidi i sassi vacillano s'avvicina il die il giudizio giunge le gente a visitare non puote allor parente parente aiutar quando tutto avvampa la vasta pioggia e per tutto infuriano il fuoco e il vento ov'è la contrada contesa parenti arse la contrada e l'alma oppressa non sape mendare e cala negli inferni siti